Sanità in crisi profonda, il privato incombe e il servizio sanitario nazionale degenera, l'autonomia differenziata è il colpo mortale. C'è un crescente impegno da parte di gruppi di cittadini, di consiglieri comunali, di sindacati, di forze politiche sulle disfunzioni della sanità siracusana. Aumentano anche le denunce dei casi di mala sanità. Il problema non è solo siracusano o siciliano, anche se in Sicilia siamo a un passo dal crollo del servizio sanitario. A metterle in crisi sono alcuni fattori rilevanti, le scarse risorse finanziarie e il conseguente calo degli investimenti in strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali e in strumentazioni diagnostiche e terapeutiche di nuova generazione. Inoltre la carenza del personale sanitario incide sui turni di lavoro e sui tempi di attesa, generando situazioni di stress e di frustrazione per i medici e i cittadini. Lo scolibrio del rapporto tra sanità pubblica e privata. In linea di principio la sanità privata è convenzionata. Se integra quella pubblica svolge una funzione positiva, in quanto offre al cittadino più opzioni di scelta a costo zero. Sta però avvenendo un po' dappertutto un fenomeno di sostituzione, non di integrazione, della sanità pubblica da parte di quella privata a pagamento. Il cittadino che deve fare un'attacca, una colonoscopia, una visita specialistica urgente, o aspetta 4, 5, 6 mesi o si rivolge al privato pagando. Questo fenomeno si sta espandendo a macchia d'olio e purtroppo non viene contrastato né dai governi regionali né da quello nazionale. Questa situazione genera diseguaglianze profonde e crea una sanità di serie A per chi può pagare, una sanità di serie B per i meno abbienti. Quando definiamo la sanità di serie B non intendiamo mettere in discussione la professionalità del personale sanitario pubblico che è vittima di questa situazione, ma denunciare le politiche dei vari governi che stanno demolendo, per i motivi suscitati, i pilastri su cui si reggeva il Servizio Sanitario Nazionale, in particolare la sua universalità. Ad aggravare la situazione contribuirà la riforma, se approvata in via definitiva, dell'autonomia regionale differenziata che accentuerà il divario tra nord e sud, creando un servizio sanitario a macchia di leopardo. In questo quadro dobbiamo già da ora domandarci cosa cambierà quando sarà realizzato il nuovo ospedale serecusano. Avremo più medici, avremo più reparti, avremo attrezzature più moderne? Tralasciando momentaneamente la questione dei tempi necessari per la sua costruzione, per la semplice ragione che è obiettivamente difficile prevedere quando saranno erogati i finanziamenti integrativi occorrenti, ma tuttavia alle domande poste in precedenza, prima o poi bisognerà dare risposte realistiche, alla luce della legislazione vigente, delle scarse risorse finanziarie, nonché dei livelli essenziali di prestazione se saranno nel frattempo definiti. È possibile che il nuovo ospedale possa invogliare medici di altri presidi a venire a Siracusa, ma chi può prevederne il numero? Bisognerà di contro tener conto che nell'arco di un paio di anni andranno in pensione medici ospedaliere che in alto svolgono funzioni apicali in strutture delicate. Non sarà facile sostituirli. In Calabria, di fronte a una situazione analoga alla nostra, hanno assunto 270 medici cubani. Da noi sono già state attivate convenzioni con cooperative di medici, ma a livello regionale si parla anche di assunzione a tempo determinato di medici stranieri sulla necessità del nuovo nosocomio e sull'urgenza della sua costruzione nessuno ha dubbi. Sovvengono però dei dubbi riguardo alla tempestività del reperimento di nuovi medici, senza i quali si rischia di scaricare sul nuovo ospedale gli annosi problemi dell'Umberto I. Un'ultima cosa, andiamoci piano con l'attribuire nelle condizioni date al nuovo direttore generale poteri taumaturgici che non ha, come conferma a parere personale, il modo con il quale intende affrontare l'emergenza pediatrica dell'ospedale di Avola, c'è istituendo un servizio di trasporto di emergenza neonatale, attivando bandi a tempo determinato e estendendo all'ospedale di Avola l'accordo con il policlinico di Catania per il punto nascita. Si dirà meglio di niente, purché si è caro che si tratta di interventi tampone. È chiaro che nell'attuale situazione il nuovo manager non possa fare di più, ma questa difficoltà altro non è che la conferma dello stato critico della nostra sanità. Questo è quanto afferma Salvo Bae, esperimento del PD a Reduseo.